... Incendio in un appartamento di Cartigliano e evacuate 16 famiglie e 15 persone di cui due carabinieri in ospedale. Sospette messe nere all'ex scuola elementare di Fontanivetta. I gnoti imbrattano l'atrio con cruci e disegni inquietanti. Dopo il passaggio di Fratelli d'Italia, del vice sindaco di Bastone e del consigliere leghista Zena, le opposizioni preoccupate. Ennesima segnalazione di disservizi da parte dell'Ulse 7, ancora liste d'attesa estenuanti, disagio per i pazienti. San Lazzaro, dopo Pasqua, gli incontri con le ditte, i residenti temono che Bastano finisca come il Titanic. Non si placano gli assalti dei lupi, i predatori colpiscono ancora in alto piano, sbranato un pony. I freni si rompono, fuoristrada finisce nel burrone, due persone ferite, paura domenica sera a Lusiana Conco. L'associazione Truck River ha voluto portare doni e affetto agli ospiti dei 500 anziani di Tezze. Calcio, Cartigliano di Rompente a Porto Gruaro, domenica di festa per il Cassola, campione di prima categoria. Buonasera a tutti voi telespettatori, benvenuti a questa nostra edizione serale di Bastano TG. Parliamo subito di un incendio in un appartamento di Cartigliano. Sono state evacuate 16 famiglie, 15 persone in ospedale. Muore anche un cagnolino. Un cortocircuito in salotto, le fiamme che invadono l'appartamento al secondo piano della palazzina Alfa di Vialdomoro a Cartigliano. Fumo nero esce dalle finestre, scatta l'allarme, momenti di panico. Il proprietario della casa a fuoco cerca disperatamente di salvare i suoi due cani, ma riesce a portarne fuori solo uno. L'altro resta intrappolato nel rogo. 16 famiglie vengono fatte evacuare, 15 persone, c'è anche una disabile, finiscono in ospedale tra Bassano e Sant'Orso per sospetta intossicazione. Tra loro anche due carabinieri, i primi che sono intervenuti sul posto in attesa dei vigili del fuoco, intervenuti in massa. Presente durante tutte le operazioni di spegnimento è messa in sicurezza anche il sindaco Germano Racchella, che si è mosso per trovare una sistemazione alle persone evacuate. Ho chiesto aiuto anche ai sindaci del territorio, se per caso hanno qualche alloggio disponibile. Alcune abitazioni completamente inagibili, dice Racchella. Alcuni sono totalmente inagibili, questo è anche da come ho sentito per due o tre giorni, perché esca anche quell'odore acre di fumo, che logicamente farebbe male alla salute. Certo è che si è temuto il peggio inizialmente. Poteva andare molto peggio. Intanto la proprietaria del vicino parco Zocca Peller ha ospitato alcune delle persone evacuate per il pomeriggio. E si è appreso in serata che le famiglie evacuate potranno rincasare già per la notte. Resta inagibile comunque solo l'appartamento da cui è partito il rogo. Ora parliamo di temi sanitari. I cittadini continuano a segnalare i loro disagi. Sentite. Ragione e regione. Graficamente cambia una vocale, ma in sostanza, quando si parla di sanità, le due parole diventano problema e soluzione. La ragione è quella che spinge i cittadini a chiedere una sanità migliore e all'aderire in massa a iniziative di raccolta firme per chiedere risposte alla regione. Come nel caso di questa paziente del San Bassiano che ribadisce quelli che sono i problemi della nostra sanità locale. Ritardi, liste d'attesa e disagi. Io sono 22 anni che vivo a Bassano e che pago le tasse a Bassano. Perché non posso soffrire di questo ospedale? Ogni volta me ne devo andare a farmi le visite privatamente perché magari non posso aspettare e loro ti danno liste d'attesa infinite. Per un'ecografia e testicoli a mio figlio un anno d'attesa, da maggio 2021, maggio 2022. Io sono andata a pagamento. Ma secondo lei è accettabile sempre, sempre qualsiasi cosa io debba fare? Eh no, no, mi sono stufata. Nel 2022 su 29 milioni di prescrizioni mediche la regione del Veneto ne ha erogate solo 16 milioni nelle strutture pubbliche. Questo significa che le altre 13 milioni di visite o di analisi sono state effettuate in cliniche private oppure sono rimaste in evase. Tutto ciò ha spinto il PD regionale ad attivare una petizione a sostegno della sanità per chiedere alla regione di intervenire e risolvere il problema. Problemi che sono acuiti nell'ULS 7 dove le eccellenze non mancano con medici e infermieri di assoluto livello ma manca, appunto, personale medico. Di solito vado all'ospedale di Sant'Orso e mi sembra che ci sia una carenza di personale. Poi per la struttura la trova invece funziona secondo me è solo che se manca il personale. Ragione e regione, una vocale di differenza per raccontare una lunga serie di problemi a cui la regione è chiamata da tempo a trovare una soluzione. E intanto cittadini e pazienti soffrono e restano in attesa di qualcuno che gli dia ragione. E continua a tenere banco il passaggio a Fratelli d'Italia del vice sindaco di Bassano e del consigliere leghista Zen. C'è uno sport in cui alcuni politici eccellono che è quello del salto nel carro del vincitore. In questo momento a Roma c'è un governo a guida Fratelli d'Italia anche alcuni civici che si erano spacciati per tali negli ultimi anni hanno deciso di aderire a questo partito evidentemente fiutando un vento favorevole. Lapidario il segretario Dem Bassanese Luigi Tasca dopo il passaggio a Fratelli d'Italia dell'ormai ex consigliere leghista Mauro Zen e del vice sindaco Andrea Zonta eletto nella civica pavan sindaco facendo capire chiaramente la sua posizione alle prossime comunali perché il salto al partito della Premier Giorgia Meloni si legge come una chiara presa di posizione e il 2024 è vicino ma se la maggioranza non vede male questo trasferimento a una destra sempre più a destra molto dure le critiche dell'opposizione. La parte civica si sta sempre più spostando verso destra sta sparendo all'interno della coalizione che sostiene il sindaco pavan e in questo non si può non vedere una situazione di debolezza oggettiva da parte del principale partito oggi rappresentato in Consiglio Comunale che è la Lega. Soprattutto la Lega sosterrà ancora la sindaca Elena Pavano in questo ultimo anno di amministrazione Campagnolo è scettico. Sarà un anno difficile del prossimo con l'aspirante candidato a sindaco da una parte e il sindaco vero dall'altra fortemente indebolito potrebbero essere problemi anche nel governo quotidiano della città. Parliamo ora di San Lazzaro perché dopo Pasqua riprendono gli incontri con le ditte e i residenti non vogliono che Bassano finisca come il Titanic affondando nel cemento. San Lazzaro. Dopo Pasqua i residenti sperano di non trovare una sorpresa sgradita visto che il 12 e il 13 aprile ci saranno altri incontri con le ditte che intendono costruire nell'area di Riva Bianca e Rambolina incontri dei quali si capirà qualcosa in più sul futuro di uno degli ultimi polmoni verdi della città e su come la politica intende agire politica che come dichiara chi vive in quei posti sembra continuare a non sentire ragioni le ragioni di chi difende casa propria che poi è casa di tutti. L'amministrazione incalza nei residenti non ascolta i cittadini ma a quanto pare nemmeno i pareri di tanti esperti qualificati. Il professor Valerani ad esempio ha paragonato la situazione a quella del Titanic quando l'orchestra ancora suonava motivetti allegri mentre il transatlantico affondava. Motivetti allegri che non rischiano di distrarre l'attenzione di chi si sta battendo per l'ambiente e per il futuro della città. A vedere affondare la nave non ci sta nessuno anche perché le scialuppe di salvataggio, promesse e proposte non soddisfano e non risarciscono. Se la nostra amministrazione e la conferenza dei servizi non tengono conto della voce di semplici cittadini che almeno diano ascolto a voci autorevoli per non essere ricordati come la miope compagine che ha distrutto l'ultimo ampio polmone verde di Bassano. Spiaggetta sul Brenta ancora chiusa e il comune di Bassano è in attesa che proprietà e genio civile trovino un accordo. Spiaggetta di via Pusterla, cantiere di smesso della centralina sul Brenta, due passi dal monumento nazionale. Non si fa più nulla, lo abbiamo detto più volte. Eppure quell'angolo di paradiso sul fiume tanto ambito dei bassanesi, nelle torri dei stati in città resta off limits. E allora abbiamo chiesto l'UMI all'assessore competente per capire cosa ci sia da aspettarsi. La spiaggetta è chiusa ma non per colpa del comune perché la spiaggetta non è comunale è in parte di proprietà del Diamanio e in parte proprietà di un privato ora in capo al privato che aveva fatto la proposta di esecuzione della centralina. È tra loro che devono sistemare la questione Noi come comune possiamo solo attendere siamo qui fiduciosi, siamo qui anche aperti eventualmente ad entrare anche in possesso di quell'appezzamento di terreno che ci consentirebbe allora sì come pubblico di poter fare un accesso e di gestirlo noi come comune. Comune che dal canto suo assicura l'impegno per una riqualificazione del sito. Noi abbiamo anche sollecitato e stiamo anche preparando un programma progettuale che possa riqualificare quell'area anche perché di lì, ricordiamo, passa tantissima gente che quando fa il giro del Brenta percorre quel tratto di strada e trovarlo così un po' se volete malmesso non è sicuramente un bel biglietto a visita. Andiamo a Fozza con i lupi che colpiscono ancora in alto piano ed un pony sbranato nella notte. I lupi non si fermano un'altra notte un altro attacco in alto piano questa volta a Fozza dove i predatori hanno aggredito una coppia di pony sbranando l'esemplare maschio e lasciando in fin di vita la giovane femmina. Non è servito neanche il recinto a proteggere i due animali una predazione l'ennesima nella zona è già la seconda per il proprietario dei pony. L'anno scorso infatti stessa ferocia e lo stesso drammatico epilogo i lupi infatti avevano attaccato un'altra coppia di cavalli ferendo l'esemplare maschio e uccidendo la femmina a colpi di morsi. I freni si rompono e un fuoristrada finisce nel burrone e due persone sono rimaste ferite. Paura domenica sera per una coppia finita con l'auto in un burrone incontra Cunchele a Lusiana Conco feriti gli occupanti un uomo e una donna i due erano a bordo di un fuoristrada e stavano percorrendo una discesa con forte pendenza quando si sono guastati i freni e il veicolo è finito dritto in un dirupo. I primi a dare soccorso sono stati alcuni amici che seguivano la coppia su un'altra auto. I vigili del fuoco arrivati da Asiago hanno collaborato i soccorsi sanitari del personale del Suem 118 estraendo la coppia dall'abitacolo. Entrambi i feriti fortunatamente non in pericolo di vita sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale. Sul posto per rilevare il sinistro i carabinieri. E torniamo a parlare dell'oro rinvenuto nelle gallerie del bunker a Marostica. Una notizia questa che ha fatto il Giro del Veneto e non solo. Ma dobbiamo confessarvi una cosa. Siamo tornati nel bunker della Seconda Guerra Mondiale a Marostica per dirvi che era un pesce d'aprile il ritrovamento di denari materiali preziosi all'interno di questa struttura. le monete erano di cioccolata e adesso ce le mangiamo col sindaco Matteo Mozzo però effettivamente un tesoro qui c'è. Sì, questo è un tesoro che verrà restituito presto ai cittadini e a tutte le persone che vorranno visitarlo. Marostica è una città ricca di tesori come lo è tutto il nostro territorio e vi invito a venire a visitarlo. Estraordinario successo di pubblico per l'undicesima edizione del mercato di piante e fiori di rara pianta. il giardino Parolini è avvenuto questo weekend e sono state 20.000 le presenze. Giardinaggio e collezionismo del verde rarità e bellezza ma soprattutto una folla di 20.000 visitatori numeri straordinari per l'undicesima edizione di rara pianta l'esclusiva mostra mercato di piante e fiori promossa dal Rotary Club Bassano Castelli con il patrocino della città di Bassano con commercio e dell'orto botanico di Padova ed è stata la natura vestita di fiori e piante l'indiscussa protagonista di questo viaggio un giardino quello Parolini curato per l'occasione dal botanico Giuseppe Busnardo le cui mani e occhi sapienti in questi due giorni lo hanno trasformato in un luogo di bellezza cultura e scambio orchidee rose stelle alpine ma anche arte artigianato gioielli visite guidate e come ogni anno tanti riconoscimenti assegnati dagli esperti la corona in questo caso dei fiori è andata a Mirella Collavini donna di rara pianta 2023 una vera e propria autorità nel campo del giardinaggio nota come la signora delle violette per la sua decennale attività di recupero delle antiche varietà di questo fiore camion carichi di doni e affetto per gli anziani di Tezze una sfilata di solidarietà un lungo abbraccio alla comunità dei nonni di Tezze sul Brenta un viaggio nel cuore del paese che ha toccato il cuore di chi in quel paese vive di chi l'ha visto crescere di chi ha costruito strade frequentato scuole e messo su famiglia l'associazione Track River ha voluto in collaborazione con l'amministrazione comunale portare un dono agli ospiti dei cinque centri anziani di Tezze ma non solo un sorriso e un augurio anche a chi il nostro futuro ce l'ha preparato praticamente chi ha lavorato tutta la vita per noi un messaggio d'augurio e di speranza per Pasqua un modo per ricordare a tutti che nessuno è solo e poi un regalo un Tao benedetto se li abbiamo fate benedire abbiamo fatto un bigliettino con una frase simbolica come augurio diciamo e siamo andati li abbiamo confezionati noi personalmente siamo andati in giro su tutti i centri del paese avevamo 200 pensierini li abbiamo finiti praticamente tutti siamo veramente orgogliosi di aver avuto anche tanti complimenti di averci potuto confrontare anche con le persone anziane emozioni forti commozione e un intero paese che ha applaudito l'iniziativa è stata un'esperienza veramente spettacolare perché i nonni ci hanno accolti a braccia aperte vuol dire poco gli applausi gli abbracci che ci hanno portato e vedere anche proprio quelli più anziani che sono stati maggiormente ringraziati anche dal sindaco che gli ha portato un uovo di Pasqua una scatola di cioccolatini sono stati valorizzati proprio veramente e sono stati fenomenali una favola pasquale più dolce di un uovo di cioccolato ma il cuore di Tezze e della Track River non è una sorpresa è una forza che muove camion di solidarietà numeri da record per il CSI di Tezze sul Brenta ieri più di 2000 atleti in gala per il campionato nazionale di corsa campestre partecipazione record ieri nella 24esima edizione nazionale di corsa campestre organizzata dal CSI di Tezze sul Brenta tra il parco dell'amicizia e il centro cittadino più di 2000 atleti e 190 formazioni si sono date battaglie in una manifestazione speciale anche per il CSI di Tezze che ha celebrato 50 anni di attività ed è stato premiato con il discobolo nazionale un riconoscimento che sottolinea l'impegno del CSI a livello giovanile non solo con atleti portati alla ribalta nazionale e domenica di verdetti per il calcio nostrano giornata di sorrisi speranze e verdetti per le squadre di calcio dilettantistiche del territorio in serie di il cartigliano fa la voce grossa a Portogruaro vincendo 4 a 0 e prendendosi tre punti dal sapore di salvezza per la soddisfazione di mister Alessandro Ferronato una bella vittoria penso anche meritata perché abbiamo difeso bene ma abbiamo giocato bene nel primo tempo soprattutto i 20 minuti iniziali abbiamo avuto tante occasioni per fare gol anche loro una clamorosa ma siamo stati bravi poi chiaramente abbiamo legittimato nel secondo tempo in eccellenza il Bassano vince di misura in casa contro il Castelnuovo finisce 1 a 0 al mercante con il gol di Peotta giallorossi che consolidano il terzo posto vola e continua a sognare l'Eurocassola vittorioso 1 a 0 sul campo del Pescantina match winner Federico Fagan su rigore sempre in eccellenza festeggia lo schio del presidente Davis Vallortigara Hakim Calgaro mette il sigillo sulla vittoria dei giallorossi contro il Pozzanovo che vale la salvezza in largo anticipo gioia incontenibile a Cassola con la squadra di mister Manolo Destro che vince il campionato e festeggia l'approdo in promozione vediamo ora altre notizie dal territorio attivato nel municipio di Cassola lo sportello di intermediazione tra gli uffici giudiziari e la popolazione il secondo nella provincia di Vicenza è rivolto soprattutto ai cittadini bisognosi di tutele funzionerà il lunedì dalle 15 alle 18 il secondo e quarto sabato del mese dalle 10 alle 12 Pasquetta a Cartigliano in Villa Morosini Cappello verrà allestita un'area giochi con giostre e gonfiabili per bambini si potrà usufruire del parco anche come area picnic è stato installato a Tiene un nuovo defibrillatore sotto i portici di Corso Garibaldi il primo in area pubblica a disposizione in caso di necessità si tratta del 18esimo defibrillatore posizionato dal comune per garantire sicurezza alla cittadinanza Parliamo di sospette messe nere all'ex scuola elementare di Fontanivetta Croci segnate sui muri sul pavimento sulla lavagna scritte o mini stilizzati crocifissi buttati a terra in bagno e in aula monta la preoccupazione a Fontaniva dopo gli inquietanti ritrovamenti durante un sopralluogo da parte degli operai del comune all'interno dell'ex scuola elementare di Fontanivetta aleggia lo spettro delle messe nere Restiamo sgomenti non solo come amministrazione ma penso come tutta comunità non tanto per il danno al patrimonio che è evidente ma quanto appunto per il decadimento morale che questo può rappresentare certo è presto per parlare di eventuali rituali di messe nere di qualsiasi altra cosa potrebbe essere anche solo una goliardata di qualche ragazzo però diciamo i segni sono evidenti ed eloquenti non si sa ancora è presto per dirlo se può essere frutto di una goliardata come potrebbe essere altrettanto frutto di qualcosa di più grave ma è un messaggio che comunque desta preoccupazione I responsabili si sarebbero introdotti nell'edificio in più riprese dopo aver forzato una finestra si sarebbero assicurati l'accesso lasciando una porta socchiusa e una volta dentro hanno messo tutto a suo quadro per poi concentrarsi sulle scritte e disegni e segni allarmanti è il messaggio che inquieta e chiaramente i riferimenti non possono essere non possono essere nascosti ecco appunto le croci e sono episodi che si sono verificati anche in altri luoghi in altre località anche magari sappiamo in qualche paese limitrofo abbiamo da poco riqualificato un'area boschiva dove sono stati ritrovati altrettanti segni evidenti ecco di queste di questi possibili possibili rituali e crediamo che avendo sottratto l'area boschiva a queste presenze possano essersi spostati in questi luoghi che adesso verranno però messi in sicurezza al piano superiore è stato ritrovato un barattolo di tintura di iodio forse il materiale usato dai vandali per le scritte e i disegni il fatto è stato denunciato ai carabinieri che ora stanno svolgendo le indagini per risalire agli autori prima serata con focus ospiti questa sera saranno Claudio Borgia Mirko Casteller Davide Faccio Giuliano Guidotto Morena Martini Giovanni Battista Mestrinera Antonino Pipitone Alberto Villanova in chiusura vi ricordo come sempre le previsioni del tempo di domani vi ringrazio tutti voi per essere stati in nostra compagnia buona serata grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori